Robi, fermaci un attimo! Fermiamoci! Anzi, fermatevi anche voi un secondo con noi amici scrittori! Sto preparando un audiolibro. Volete sapere se il vostro audiolibro, il vostro libro, può essere pubblicato e venduto sulle piattaforme digitali più diffuse? Volete che il vostro libro abbia una voce che diventi anche un audiolibro ed essere facilmente poi ascoltato, scaricato da tutti, specialmente dai giovani, ma non solo, perché oggi i libri non solo si leggono ma si ascoltano. Ci sono signore che vanno al supermercato e ascoltano non solo musica ma ascoltano anche il signore e il signore. Oppure lo avete già pubblicato in cartaceo il vostro libro ma volete pubblicarlo in digitale e raggiungere le piattaforme, quelle che raggiungono il più ampio pubblico. Amazon, Kindle, per parlare di alcune persone. Oppure volete pubblicare in cartaceo ma senza costi di magazzino? Beh, chiamateci. A Radio Raccontiamoci studieremo il modo per pubblicare il vostro libro insieme e raggiungere il più vasto pubblico possibile, con interviste, consigli letterali, trailers. Studieremo un piano editoriale proprio apposito per voi, su misura per il vostro libro completo di revisione di editing e pubblicità digitale. Chiedeteci un parere, la consulenza abbiamo anche noi approfittato di questo Black Friday e quindi abbiamo lanciato questa consulenza gratuita fino a dicembre. Basta iscriversi alla nostra community, chiamarci Radio Raccontiamoci APS, edizione digitale. Il numero dovrebbe scorrere sotto, vero Simona? Allora, potete scrivere a infochiocciolaradioraccontiamoci.net. Scrivete Black Friday per scrittori. Black Friday per scrittori. E noi sapremo di cosa stiamo parlando insieme, perché le edizioni le facciamo insieme a te. Continui? Continuo! Scrivete Black Friday per scrittori.